Eccoci qui ragazzi in diretta dal Final Table, vedete 4 giocatori rimasti in gara, abbiamo Zito, Betti, Brugnoli e Caria. Vi ricordo anche velocemente i livelli, siamo a 20.000-40.000 con l'ante a 3.000, 4 giocatori in gara come dicevamo prima e 1.393.750 lo stack medio. Si riprenderà dopo questo livello, del quale come avete appena visto mancano 5 minuti, con 25.000-50.000 con l'ante a 5.000. Cerchiamo di seguire questa mano, la mano Zapp tra Betti e Caria, vi quadro velocemente il board. Eccoci qua, 6 di quadro, 8 di fiori, 2 di cuore. E Betti a prendere l'iniziativa post-flop puntando 250, 267.000. Probabilmente c'è stata anche azione pre-flop, vedo il piatto abbastanza imponente, invece la siamo un attimo persa. Attenzione c'è il roll-in e il call. K6 contro Asso Asso, niente da fare. E credo che... Forse avremo un player out. Vediamo se ci sarà il player out. Intanto andiamo a rivedere il board con la mano vincente. Credo proprio di sì, ci sarà il player out. Ora vi aggiorneremo comunque sul forum, io vi do l'aggiornamento ai prossimi video. Buon poker a tutti ragazzi, ciao a tutti.